Ho avuto soltanto una cliente oggi, una signora che ha comprato una radio. Perché non ci abbiamo pensato? Ma certo! Il biglietto diceva, io porto la radio. Chiunque l'abbia scritto non parlava di una ricetrasmittente. Probabilmente parlava proprio di una radio. Perciò se oggi una signora ha comprato una radio... Significa che la rapinatrice di banca è una signora che... Che vuole ascoltare la musica mentre rapina la banca!